Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro ArtGabage, sono qui in questo commentario e non so se è il caldo o il mio hype per Call of Duty Black Ops 4, ma in questi giorni l'altra riercia c'era proprio dato dentro per quanto riguarda teaser, novità e la prossima operazione sembra essere qualcosa di spettacolare. Ci siamo fermati proprio ieri con la blueprint della Rega Mark II che sembra essere appunto ad elementi o comunque con diverse munizioni magari di appunto elementi diversi o simili ai cristalli addirittura di Origins, vi lascio il video che ho fatto a riguardo ieri in descrizione, e poi le news sono comunque aumentate. E' stata infatti annunciata l'operazione Apocalisse Z che vedremo come al solito il 9 luglio prima su PS4 e una settimana dopo per Xbox One e PC, e questa è l'immagine che hanno rilasciato. Le cose interessanti sono sicuramente gli zombie sotto, il simbolo del diner, che è una cosa davvero interessante anche se penso sia più legata magari a Blackout, e ovviamente Russman che ti rimane un MOG 12. Anche per quanto riguarda Russman, immagino che sia un personaggio giocabile in Blackout, simile a come è già stato fatto con Misty appunto, e immagino anche se ha pagamento, quello davvero un peccato. Però vediamo sempre più i personaggi della Victis Crew, abbiamo già visto Misty nel gioco e nel filmato Aether Returns insieme a Stullinger, adesso anche a Russman. L'unico che però ancora non è stato mai visto è Marton, speriamo anche lui magari di vederlo a breve. E anche un ritorno della Victis Crew nella prossima mappa Alpha Omega, o comunque secondo me avranno una qualche importanza all'interno della storia Aether, almeno per i prossimi due DLC. Quindi questa cosa era stata speculata un pochino che ci fosse un'operazione tutta a base zombie, soprattutto noi comunque appunto della community di zombie, abbiamo tutte quelle stesse speranze anche un po' assurde ogni tanto. Invece alla fine così è stato fatto, quindi operazione Apocalisse Z, tanta roba per cui mi aspetto molti contenuti zombie, sicuramente su Blackout, e spero come sempre su zombie. Ma la cosa non finisce qui, perché la Terra ci ha rilasciato nuovi teaser per quanto riguarda la storia Aether e la prossima mappa. Il primo lo vediamo qua a schermo, questo dovrebbe essere all'interno di un robot di Origins, vediamo anche appunto a sinistra quello che dovrebbe essere il modello, e quello che vediamo dietro dovrebbe essere una zona, almeno noi pensiamo, di Der Eisendrache, almeno comunque tutto quanto che c'è intorno, che sembra appunto l'interno magari o del castello o una zona esterna, i colori ricordano molto quello. E inoltre c'è questo pistone che sembra essere collegato al robot, perché quando si trova in alto c'è questo tasto di colore verde, mentre quando si abbassa il tasto diventa rosso, e invece a un certo punto ritorna verde e il pistone si alza nuovamente. Quindi non so quale magari sia il collegamento, e non so cosa ci faccia questo robot di Origins, che dovrebbe essere comunque in Francia, qua su Der Eisendrache. E sappiamo più o meno comunque che la zona dovrebbe essere quella, perché la Treyarch con questo teaser ha rilasciato delle coordinate. E se andiamo a queste coordinate ci troviamo in un paesino un po' piccolo dell'Austria, chiamato Eisenstadt. Alcuni pensavano fosse il villaggio che si può vedere nella first room di Der Eisendrache, però comunque le zone sono abbastanza lontane. Dato che il castello di Der Eisendrache dovrebbe basarsi su quello di Ohenwenfer, che si trova sempre in Austria, però praticamente dall'altra parte del paese. Quindi non penso ci sia un collegamento per forza della mappa, o comunque almeno non per forza della stessa location, però appunto lo stesso paese. E questa cosa è un po' particolare, perché a queste coordinate precise non si trova nulla di interessante, dato che siamo in questa via molto semplice, dove c'è ad esempio un ottico, c'è anche una toilet pubblica. Nulla che sembra indicare comunque qualcosa di davvero interessante o inerente alla mappa zombie, quindi penso sia soltanto il nome del paesino o comunque la location in Austria che sia importante. Vedremo magari in futuro dei dettagli, quando c'è la prossima mappa appunto, o se la Thresh rilascerà nuovi teaser con più dettagli. Il secondo teaser è secondo me ancora più interessante, perché possiamo vedere elementi della storia Chaos e della storia Aether tutti assieme. Innanzitutto in alto a sinistra abbiamo questa blueprint, che sembra essere della follia di Alistar di Dead of the Night, o comunque assomiglia veramente tanto a quella specie di pistola Wonder Weapon che c'è in quella mappa. Inoltre vediamo questa specie di pilastro piedistallo, che secondo i miei amici, comunque anche secondo me, potrebbe essere uno di quelli di Nine, o quello dove si possono ottenere le sfide, o quello centrale dove spawna il pezzo per fare la trappola acida. Comunque sicuramente è un piedistallo che abbiamo già visto, quindi è chiaramente collegato alla modalità zombie, e a mappe che abbiamo già visto in passato, che siano Chaos o Etere. Per quanto riguarda il grammofono, assomiglia molto a quello di Origins, però anche a quello che possiamo vedere su Dead of the Night, quindi questo potrebbe essere anche appunto un punto di incontro per quanto riguarda le due storie, che molti iniziano a speculare sul fatto che possono essere collegate, di questo non sono sicuro ancora al 100%, però sicuramente la 3H può giocare molto su questa cosa, del fatto che ci sia gente che magari stia cercando di trovare un collegamento tra le due storie, che comunque avvengono in periodi diversi, e nella storia di Terry abbiamo tutto il sistema di viaggi temporali, realtà alternative, pocket dimensions, è molto più complesso della storia Chaos, che per quanto abbia comunque dietro dei miti che siano dell'antica Grecia, dell'antica Roma, o altre robe del genere, è comunque abbastanza lineare, abbastanza tranquilla. Inoltre in alto a destra abbiamo questa specie di, non è chiaro se è un'altra blueprint, che sembra di essere un'altra revolver, ossia la piantina magari di una certa mappa, di una certa zona, di un edificio. Ha questa specie di X disegnata sopra rossa, che magari possa indicare una blueprint scartata, o comunque una pianta di un edificio scartata, e si nota comunque davvero poco, dovrebbe esserci anche una scritta, ma il video è molto sgranato e zoomando così non si legge assolutamente niente. Passando invece allo schermo, che ha diverse immagini, la prima è quella del gorilla cosmico di The Dobs Arcade, e comunque si dovrebbe collegarsi a Moon, perché vediamo un personaggio con una tuta d'astronauta. Cambia poi una zona che io pensavo essere Shadows of Evil, invece la scritta Asylum ci conferma che dobbiamo trovarsi a Verrucht. Vediamo poi una piramide che dovrebbe essere quella di Moon, però appunto ci sono diverse piramidi sparse un po' dappertutto, quindi questo non sono sicuro al 100%. E le altre due cose molto interessanti finali sono la strata gigante che c'era su Dead of the Night nell'atrio gigantesco della casa, e poi il Pack-a-Punch della storia Chaos, quel solito che vediamo in tutte le mappe Chaos, ma lo sfondo dove si trova questo Pack-a-Punch sembra essere la mappa Moon, infatti anche guardando soltanto tutti gli incastri che si trovano sopra, il colore che si vede nel background, e anche in alto a destra lo sfondo che sembra lo spazio addirittura, mi ricorda davvero tanto Moon. Quindi non so quali sia il collegamento appunto se ci sia tra la storia Chaos e la storia Etere, e se ci sono magari dei pezzi della storia Chaos su altre mappe Etere che vedremo magari in futuro con dei remake delle Remastered, appunto per Zombie Chronicles 2, che se ne parla da veramente tanto tempo, o comunque la Trescia sia appunto soltanto giocando con quello che noi pensiamo, l'ha sempre fatto un pochino per far speculare alla community, far parlare del gioco, è sempre comunque molto interessante e molto divertente anche secondo me, almeno a mio parere, poi non so se tutti siano d'accordo nel soltanto parlare per mesi di qualcosa che addirittura non esista per dire. Però comunque è bello pensare magari che le due storie siano in qualche modo collegate, o che in futuro con DLC potremo vedere tutte le crew appunto della storia Chaos e della storia Etere, anche se nella storia Etere sono multiple crew con molte più persone, magari andare a incontrarsi da qualche parte e lavorare assieme. Quindi qui finiscono i teaser per quanto riguarda Zombie, penso che nei prossimi giorni arriveranno altri, ma io purtroppo nei prossimi giorni sarò via in vacanza per circa una settimana, forse riuscirò a fare qualche video mentre sarò via, magari per le cose davvero importanti cercherò di arrangiarmi in qualche modo almeno col telefono, però per il resto avrete video già programmati, già pronti in anticipo, per cui sappiate che se non parlo delle news più recenti, o comunque in quei video gli argomenti sono un pochino più indietro, è soltanto per questo motivo. L'ultima notizia riguarda l'evento del 4 luglio, che dovrebbe arrivare come evento del mercato nero, quindi dovremmo fare magari 25 livelli, qualcosa del genere, non so quanto sia la durata, e immagino parta magari con la fine di questa operazione, che sono comunque gli ultimi 5 giorni solo su PS4, quindi non so magari se possono essere pochi livelli fatti apposta, perché appunto potremmo ottenere una Ultra Weapon Bride, che permette di ottenere una delle armi nuove, o comunque un'arma che ancora non abbiamo, e questa è assicurata. Molto comodo per chi come me ha finito tutti i mercati neri per adesso, quindi mancano soltanto le armi nuove aggiunte con l'ultima operazione, che sono ad esempio appunto il coltello balistico, il Peacekeeper, il Locus o l'S16 Grey, che si possono ottenere soltanto con le riserve, mentre con questa Ultra Weapon Bride almeno un'arma è assicurata. Io purtroppo a livello 25 di questo mercato nero non ho trovato nessun'arma nuova, soltanto uno Switchblade MK2, quindi spero magari di beccare o il Peacekeeper, che sembra essere davvero forte, o anche appunto il coltello balistico, che sono i più interessanti, però anche Locus e l'S16 Grey non suonano per niente male, o comunque armi in più sono sempre ottime, soprattutto su zombie, anche se il problema solito della cassa con troppe armi rimane. Fatemi quindi sapere ragazzi voi cosa ne pensate di tutte queste informazioni, tutte queste news che sono veramente tante, quindi nuova operazione Apocalisse Z, a tema zombie, questi due teaser che si capisce davvero poco, comunque molte cose sono davvero nascoste molto bene, ci sono riferimenti molto vaghi, a mappe già viste in precedenza, o quello che magari vedremo in futuro, soprattutto per quanto riguarda il primo teaser, penso sia appunto collegato quasi sicuramente a Dries and Drakken, che è giusto la location in Austria, mentre il secondo potrebbe darci una semplice preview di quello che vedremo in futuro con un colgamento tra le due storie, e poi appunto l'evento del 4 luglio per un'arma assicurata in più, che così sia comodo per tutti i giocatori, che sia zombie, blackout o multigiocatore. Spero come sempre ragazzi che il video di oggi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale per seguire tutte le news di Black Ops 4, e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ala.